In questo video vorrei parlarvi di uno dei passaggi più belli di tutta la storia della spiritualità d'Oriente e d'Occidente. Sto parlando di un frammento che troviamo nel Vangelo di Giovanni che ci racconta la storia della donna adultera. Questo passaggio a mio avviso è un capolavoro assoluto di quella che io definirei come la pedagogia dell'amore. Ogni risposta, ogni elemento hanno un valore immenso e sono tutti racchiusi all'interno di un piccolissimo contesto dove il maestro dice quasi nulla, i dialoghi sono minimi ma forse ciò che è più forte ancora sono le immagini che questa narrazione ci permette di meditare, di costruire nella nostra mente. Proviamo per un attimo a calarci con tutto noi stessi all'interno di questa drammatica storia. Cosa ci racconta? Ci racconta di una folla inferocita che conduce una povera donna accusata di adulterio di fronte al maestro per essere giudicata. In realtà l'unico scopo degli iscrivi e i farisei era quello di mettere Gesù in una situazione irrisolvibile, una situazione dove sarebbe dovuto andare contro la sua predicazione che era la predicazione dell'amore. Gesù lo sappiamo girava di villaggio in villaggio raccogliendo sempre più consenso, sempre più persone, portando un messaggio nuovo, portando un messaggio di liberazione, di pace, di fratellanza e questo messaggio andava contro le vecchie leggi, leggi come occhio per occhio, dente per dente. Il messaggio di Gesù, questo messaggio d'amore, cancellava completamente quella dogmaticità, quella potere che il Sinedrio, che gli iscrivi e i farisei detenevano da sempre. Ecco allora che portando questa donna di fronte a lui, di fronte al suo giudizio, speravano di metterlo in una contraddizione irrisolvibile dove sarebbe dovuto andare contro le leggi di Mosè o contro la sua predicazione dell'amore. Ma un uomo che vede nel cuore delle persone difficilmente può essere fregato da questi giochini dell'ego, queste manipolazioni, queste bassezze. Gesù come risponde allora? Fa qualcosa di apparentemente assurdo. Probabilmente con un dito inizia a scrivere per terra sulla sabbia. Ma non sta scrivendo un qualcosa di particolarmente rilevante. A mio avviso che cosa sta facendo? Per non entrare nella simmetria del conflitto? Fa in modo che questa energia di violenza, di arroganza, di cattiveria, non trovi nessun pretesto per potersi innescare. A quel punto iniziano a incalzarlo, iniziano a provocarlo ancor di più. Rabbi, maestro, tu che sai? Ci vuoi rispondere? Che cosa dobbiamo fare di questa donna che ha peccato? Che la legge di Mosè ci dice che deve essere lapidata? Come rispondi? Avrebbe potuto rispondere con dogmi? Avrebbe potuto rispondere io sono il figlio di Dio e solo io posso giudicare? Lasciatela a me o chissà cosa l'ego umano provocato, attaccato, avrebbe potuto rispondere. Ma Gesù, pienamente consapevole, pienamente libero interiormente, risponde in un modo che spiazza tutti quanti, risponde in un modo che esce dalle logiche egoiche, dalle logiche della contrapposizione, guarda la folla e pronuncia queste pochissime parole. Parole che però, nella loro potenza, nella loro essenza, sono divenute forse una delle frasi più famose della storia dell'umanità. Il maestro a quel punto dice, chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. Che cosa fa? Prende questa folla e gli mette di fronte uno specchio, ributta ogni singolo individuo a se stesso, a guardare nel suo cuore. Perché è sempre questa l'azione trasformativa, non sono le teorie, non sono i dogmi, non sono le speculazioni filosofiche, vuote, vane, ma è prendere la persona e accompagnarla dentro essa stessa, a chiedere che cosa vedi lì. E quando una persona entra in se stessa e vede il suo cuore, non può non osservare che lì c'è paura, c'è errore, c'è quel giudizio che continuamente ci portiamo appresso e che per non sentirne il peso cerchiamo di buttarlo sugli altri, sul mondo esterno. È lì che il maestro dice no, devi guardare dentro te stesso, poi puoi guardare fuori. Ma quando hai guardato dentro te stesso, quando vedi quell'oscurità, come puoi giudicare chi è fuori? Come puoi non vedere che chi è fuori è il tuo stesso volto? E a quel punto come puoi non provare compassione, amore? Quando siamo di fronte alla rabbia, alla violenza, il più delle volte la maggior parte delle persone reagisce come lo squalo quando sente il sangue. Il sangue chiama sangue, la violenza chiama violenza. Sentiamo quella paura che ci fa o scappare o aggredire, ma il maestro è immobile, è quieto, risponde ad una forza di aggressività con un profondo amore che sa contenerla e trasformarla. Ecco la magia di un cuore che si trasforma. Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra e tutte le pietre cadono dalle loro mani. La folla si volta e va verso casa, va verso se stessa, va a meditare sulla propria vita. Il miracolo del maestro è di voler trasformare ogni individuo che incontra nella sua vita. Non solo vuole salvare questa povera donna che forse ha commesso un errore o forse no, ma vuole salvare anche questa folla manipolata dagli scrivi e farisei che nella sua ignoranza ha completamente perso la luce della sua consapevolezza. E infatti in queste poche parole, in quei pochi gesti, dà una possibilità di trasformazione ad ogni essere umano che è lì presente. E quando la folla ormai se n'è andata, Gesù, come se non fosse stato presente, si rivolge alla donna e dice, donna, qualcuno ti ha giudicata. Dobbiamo provare ancora a sentire le molecole della paura, della rabbia, della violenza che si stanno allontanando e percepire questa potente presenza di liberazione, di cambiamento che ha spazzato via tutto, come un vento potentissimo che in autunno porta via tutte le cose morte, le cose che non servono più. La donna probabilmente con le lacrime agli occhi dice, no maestro, nessuno mi ha giudicata. E il maestro la guarda e dice, nemmeno io ti giudico. Vai e non peccare più, non sbagliare più, rimani consapevole, rimani libera, non finire più in queste situazioni drammatiche. Bene, in queste poche parole, come ho detto, in queste poche immagini, credo che ci sia uno dei momenti più meravigliosi narrati nella storia della spiritualità e ci tenevo molto a condividerlo con voi.